Radio Radicale, siamo con Francesco Borrelli dei Verdi per parlare di Toni Colombo, il cantante neomelodico che aveva fatto ricorso sulla sua permanenza in carcere. Poi lei mi spiegherà bene di che cosa si tratta, che ha perso e quindi resterà in carcere. Lei, onorevole Borrelli, aveva ingaggiato un confronto dialettico molto animato, utilizzo questo termine, nei confronti di Toni Colombo e della sua moglie. Ed era addirittura, credo su Canale 5, aveva avuto uno scontro televisivo piuttosto duro. Ricordo che era una trasmissione di Barbara D'Urso e lei era stata addirittura cacciata dalla trasmissione di Barbara D'Urso ed era stato attaccato anche da Platinetta. Allora, che cosa è successo? Allora, la vicenda di Toni Colombo e Tina Rispoli emerge in tutta la sua mediaticità quando loro si sposano. Si sposano e organizzano un matrimonio come se fossero i reali di Inghilterra, in cui utilizzano la città come un possedimento privato. Organizzano un concerto che si rivelerà poi abusivo al centro di Piazza del Bicito. Cioè, loro hanno organizzato un concerto in pieno centro a Napoli senza autorizzazione, ma è vero? Senza alcuna autorizzazione, anche se poi il magistrato ha archiviato la vicenda perché non hanno capito come sia stato possibile una cosa del genere. Non sono riusciti a risalire la documentazione e quindi a chi fosse effettivamente responsabile di questa cosa, anche perché non hanno messo controllo da parte di tutte le autorità che stanno sulla piazza. Ricordate che c'è stata anche la prefettura. Assurdo, scusi, che è assurdo che non si trovi nessuna documentazione. Purtroppo è una delle tragicità della burocrazia malata del nostro paese, del responsabilizzato. Ma non solo, avevano bloccato il corso secondigliano perché hanno organizzato un percorso con la carrozza, con Tena Rispoli, senza nessuna autorizzazione, per cui fece intervenire in diretta la polizia municipale, in quanto che avevano bloccato totalmente il traffico senza autorizzazione. Arrivarono con i trombettieri che poi si scoprirà essere poliziotti penitenziari che poi sono stati... Cioè la polizia penitenziaria era andata... Esistono la banda della polizia penitenziaria, ma che non può svolgere attività private, ancora di più per socializzare. Ma loro, scusi, si erano presentati proprio con la divisa o no? No, no, no. Ah, senza divisa. Fuono identificati però perché fecero davanti al maschio angioino, dove si sposarono, facendo spostare una iniziativa delle associazioni anticamurra, delle vittime di camurra. Cioè le vittime di camurra dovessero spostare il loro evento perché era inconciliabile la loro presenza con quella di Tena Rispoli e Tone Colombo. Non è che chi è napoletano e chi sta nel mondo, diciamo, della società napoletana non sapesse chi erano Tira Rispoli, cioè moglie di un boss della camurra, il boss marino, uno dei più sanguinari e feroci uomini della camurra degli ultimi vent'anni. E i trombettieri furono chiamati perché quando si arriva al maschio angioino ci sta una specie di salita e quindi i trombettieri dovevano fare l'omaggio alla sposa che entrava. Quando furono identificati, perché non aveva nessuna autorizzazione per fare questo, si scoprì che erano poliziotti penitenziari che non potevano farlo perché non hanno la possibilità che hanno preso soldi al nero, per capirci. Ma ancora, cosa ancora più grave. Perché è stato accertato? Eh, secondo quello che hanno raccontato. Poi successivamente la polizia penitenziaria avendoli licenziati perché non potevano certamente i poliziotti penitenziari fare musicisti e essere assoldati dalla moglie di un boss di camurra. C'è una cosa surreale. Quindi bloccarono la città e fecero tipo 20-30 puntate delle trasmissioni sia pomeridiane sia serali dell'Adusso. Durante una di queste trasmissioni, perché nessun esponente politico li aveva attaccati, ho attaccati solo io. Nessuno aveva avuto da ridire che lui... No. No. Nessuno aveva avuto da ridire. Beh, forse erano tutti distratti. La distrazione... Era un momento politicamente difficile, si sono distratti tutti. La distrazione e il benaltrismo sono due dei grandi problemi irrisolti del mio territorio. Per cui o sei distratto oppure devi pensare a cose più importanti. Ma pensi al matrimonio di quei due, falli essere felici. E poi scopri che sono due legati alla malavita organizzata in modo profondo. Che cosa succede? Denunce, loro mi querelarono perché dissero che io quello che ho detto non era vero. Ovviamente io non ho avuto nessun procedimento perché non ha avuto luogo a procedere. Cioè hanno proprio archiviato prima di... Sì hanno archiviato prima perché quello che dicevo era... Io ho raccontato che quella era la vedova di un boss di Camorra. Non dicevo... E chiedevo una cosa che poi la finanza per fortuna ha intervenuto. Volevo sapere i proventi, tutti questi soldi di questi due, da dove venivano. Perché Tony Colombo non guadagnava, come si è scoperto poi dall'attività della magistratura. I soldi li prendeva in prestito dalla moglie o prima ancora dal marito boss della moglie. E chiedevo quali erano le entrate. Cioè come facevano ad avere tutti questi soldi, come facevano ad avere tutte le ville e tutte queste altre attività. Noi dobbiamo essere coscienti, dobbiamo sapere questi personaggi, come crescono e come si insediano all'interno della nostra società. E cosa succede a quel punto? Che si apre ovviamente indipendentemente da questo un'inchiesta molto pesante. E uno dei risultati di questa inchiesta porterà agli arresti. Ci sono tre filoni in questo momento. Uno per quale è stato chiesto l'arresto, ma l'arresto non è stato concesso, che è legato a, se ricordo bene, all'usura. Un altro su cui c'è un processo in atto, ma non è stato richiesto l'arresto. E cioè sulla gestione da parte della famiglia, compresa Tina Rispoli, delle case celesti, che sono delle case popolari, in mano al clan marino, in cui il comune non prende i soldi delle case popolari, ma li prendono loro, li assegnano loro, come se fossero un altro Stato. E poi c'era questa vicenda dei finanziamenti e degli interessi con alcuni clan di Camorra che loro avevano finanziato e con cui erano in affari. In questo caso è stato fatto l'arresto e hanno fatto due livelli, hanno fatto il riesame adesso la Cassazione e in entrambi i casi è stato confermato l'arresto. Mi sembra che lei sta a Poggio Reale e lui invece sta a Pozzuoli e lui, se non sbaglio, sta a Secondigliano. Qual è il tema, ovviamente, che oggi si pone a distanza di tempo? All'epoca io feci una battaglia in solitaria, fui cacciato via anche dalla trasmissione televisiva di Barbara D'Urso perché avevo raccontato la storia di questa donna, ricordo a tutti, moglie di un boss di Camorra, il clan Marino con cui lei era stata sposata per 18 anni, da cui ha avuto anche dei figli, dei figli di cui uno già, che è stato in galera, è già un pregiudicato e che era una donna notoriamente legata a quel mondo. Quando io visse, perché lei non sa che suo marito era un camorrista, lei disse di no. E io a quel punto le domandai, mi scusi, durante il vostro matrimonio suo marito è stato più volte in carcere a Poggio Reale. Lei non lo è andata a trovare, non sapeva che stava a Poggio Reale o che cosa pensava che fosse il carcere. Quella domanda è rimasta totalmente in evasa. Come abbiamo scoperto che ad esempio una delle sue abitazioni che si chiamava Colombolandia, c'è una megavilla a Giuliano di cui noi abbiamo appreso la cosa tramite i social, in questo caso Benedetti Social perché lui donò le chiavi pubblicamente facendo una diretta sui social e disse io ti regalo, nel nome del nostro amore, ti regalo Colombolandia che era questa megavilla dedicata a Tony Colombo in cui loro avrebbero. Dopodiché scoprimmo che però la villa che aveva regalato non era intestata a lui o a lei, era intestata a un esponente politico di Forza Italia in Poggio, arrestato per voto di scambio. E quindi sono intervenuti e hanno sequestrato pure la villa. La domanda è, perché Colombo regala una villa che appartiene a un altro e che ha voto di scambio? È evidente che possiamo dire quello che vogliamo ma non era difficile comprendere e schierarsi. È molto più difficile, è molto più facile farla adesso. All'epoca era molto più difficile. Quando tu sei stato cacciato dalla trasmissione della D'Urso qualcuno ti ha manifestato solidarietà e ha detto mi dispiace per quello che ho detto. I cittadini. Ma io voglio ricordare che fui offeso pubblicamente da... Ma il pubblico come si è accetteggiato? Il pubblico era... Vabbè stava dentro la trasmissione della D'Urso io sarei collegamento. Cioè se no non entravano... Applaudivano come i pazzi a Toni Colombo ma anche quando loro... Bellissimo. La vedova del boss di Camorra disse Borrelli non hai rispetto, io sono una mamma e i miei figli vedono la televisione. Ma adesso io vorrei capire, lei ha pubblicato la qualunque sulla sua pagina, ogni cosa più vergognose possibile da... ovviamente io non critico ma comunque anche in posizioni come dire non proprio da mamma ma da fashion girl e così via ha pubblicato le pezzori volgarità adesso il problema era che Borrelli le aveva detto che lei era la vedova di un boss di Camorra che è il padre dei suoi figli cosa che ovviamente era nota e stranota. Platinetta difese pubblicamente la Rispoli dicendo che per lui oramai una volta che era morto il marito era finito tutto a domanda anche in quel caso di Evasa i soldi del marito a chi sono andati soldi proventi della Camorra degli assassini, dello spaccio della droga del levare il sangue alla povera gente ovviamente faceva più audience a parlare del matrimonio sfarzoso di cui ancora oggi sono aspetti oscuri che spero verranno crediti ulteriormente dalla magistratura quello che è certo è che questi due personaggi oggi restano in galera. Lui è stato condannato? No, loro sono in carcerazione preventiva con richiesta del riesame e adesso della Cassazione tutti imbocciati perché questa volta visto che ci hanno provato più di una volta i magistrati l'impianto accusatorio era profondamente solido anche per gli arresti perché negli altri casi il procedimento giudiziario è andato avanti ma non ha ritenuto il magistrato di confermare la richiesta di arresto che invece era già stata fatta in altre due occasioni. Quindi ho capito quindi deve essere ancora definito però devono ovviamente adesso fare tutto il procedimento in questo momento le accuse nei loro confronti sono gravissime l'impianto accusatorio e il loro legame con la criminalità a quanto risulta dai primi tre gruppi giudiziari in realtà giudiziaria che l'hanno affrontato è molto solido resta il fatto che mi aspetto anche da parte della finanza di sapere una volta e per tutte le ricchezze di questi soggetti da dove provengono. Lei ha paura? Perché l'hanno querelata queste persone hanno un certo risentimento nei suoi confronti insomma io so che hanno provato non so chi l'hanno provato a uccidere lei un paio di volte volevo sapere se... Allora innanzitutto non è legato allo scontro con la famiglia di Colombo non è legato allo scontro del motivo... No 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 io parlavo degli episodi... Ma sì sono legati alle occupazioni abusive da parte di alcuni clan che sono stati sgomberati da beni pubblici che occupavano illecitamente No no ma io non parlavo assolutamente... Sicuramente io mi sento minoranza cioè io quando sento che è persona coraggiosa in realtà io non mi reputo per niente né coraggioso più che altro stanco cioè stanco di vedere tutta questa melma che ha preso il sopravvento non solo nel mio territorio ma molto spesso anche nel resto d'Italia e per me il manuente è d'oltanto camorra l'idea camorrista non è soltanto del camorrista in quanto è l'idea culturale di prevaricazione arroganza furbizia di strafottenza nei confronti dei più deboli e di esaltazione di chi si comporta malissimo detto ciò quello che mi dispiace più di tutto e molto spesso è che l'esaltazione mediatica fa perdere di vista in buona parte del pubblico e delle persone la caratura di determinati personaggi non era complicato dire quello che ho detto io cioè che Tina Rispoli fosse la vedua di un boss di camorra non era correlabile perché è la verità 18 anni non è che si è stata sposata un'ora 18 anni non puoi essere sposata con un'ora tra l'altro che era chiamato moncherino perché una sera nel mettere una bomba per fare il racket questo bravo uomo sotto un negozio gli era esplosa la bomba in mano e il paradosso e il paradosso per cui io interveni era che nonostante fosse stato certificato che l'amputazione delle mani era stato dovuto al fatto che aveva fatto un'azione criminale gli diedero la pensione di invalidità cioè non abbiamo pagato la pensione di invalidità a un camorriso perché aveva messo una bomba e gli era esplosa la bomba in mano ed era pieno di soldi questa è una delle cose le storture del nostro paese contro cui mi batto nella quale io mi sento sia nei confronti della burocrazia malata sia nei confronti della criminalità una minoranza fiera ma piccola grazie grazie mi sono messo paura io mi sono messo paura io io la ringrazio come sempre per averci documentato sugli ultimi sviluppi del caso di Toni Columba della sua moglie moglie se l'è sposata dicono secondo le intercettazioni che lui sia stato obbligato a sposarla perché aveva dei debiti e lei ha detto a questo punto mi sposi questo è quello che vengono ok certo grazie a Francesco Borrelli dei Verdi grazie a voi Grazie.